Secondo lei c'è ancora speranza per il mondo? No Hai letto un messaggio? Allora il funerale è alle 7 e ti ho lasciato l'indirizzo dietro al biglietto Ok Ma tutto bene? Ma che stamattina mi sono svegliato con un fischio Delle orecchie Io non sento niente Le orecchie presentano la maggiore incidenza di infezioni soprattutto in età infantile Ah Lei ha figli No Lavora con bambini Faccio il supplente in un liceo Lì non sono bambini Mamma Puoi iniziare col dirmi questo chi è? Nicolai è un artista Io direi che assemblo emozioni Amici o parenti con bambini piccoli? Qualcuno sì Ed è solito prenderli in braccio, toccarli, strofinarsi con loro? Il funerale doveva essere la mattina ma... Scara facce Accentinaia Tu te lo ricordi un certo Luigi? È un amico suo? Non lo so Comunque è morto La maletta è la bibbia Obiettivamente Ci sono delle parti che quando ogni tanto la leggo Per usare un eufemismo Non significano proprio un cazzo Lei non sarà amica di quelli che vivono fuori dal proprio tempo? Non sei una persona facile, lo sai? Professore in casa? Mio marito stravedeva per te e anch'io Pensavamo tutti e due che fossi un genio Evidentemente ci eravamo sbagliati